Adriano D'Assolti, Irish Throwdown CrossFit Porto San Derpidio Master 35 Plus 15 kg 15 kg 10 kg 1,5 kg 15 10 1,5 kg Bad 10 2,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg Si prende la spada e le bombe le pote cascano per terra Se non fa pure... Prodere, così... Uno... Cinque Sette... Tre... Non fai partito? Ehm... Quello più Ah, sì, lo fece Allora. 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 Grazie. 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 50 secondi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.